e ragazzi allora ragazzi mi sentito? allora la scorsa volta mi ha mandato un commento e mi ha chiamato lo saluto ciao Manuel ricordate se volete la macchina livello 50 se hai il clip racing video e poi se volete tutte le parti della mia auto comunque ragazzi vi piacciono se vi piace se vi piace scrivete un commento o mi dico basta perché a me non mi piacerebbe chiedere questa serie tanto bella è che che vi vedo che vi piace tanto in mezzo di visualizzazione dopo un po' sempre 40 arrivo ragazzi vi ricordo di andare a vedere fare i nabbi il mio primo video sul canale le pubblicità del Kaiser non me ne frega niente music week ci va così non sono cammerbio sto ancora con le catene la macchina ragazzi c'è quale occhio vi avete trovato la macchina di numero 50 adesso che la sto mostrando state attenti con la coda la macchina e io vi saluterà Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.